I video che vedrete sono esito di un progetto di ricerca europeo dal titolo CONSEC 20, cioè dedicato al patrimonio architettonico in cemento armato della prima metà del XX secolo. Il progetto vede quattro sedi europee come capofila l'Accademia delle Scienze di Praga, l'Università Tecnologica di Delft, Olanda, l'Università di Cipro e l'Università di Genova con un gruppo di ricerca che appartiene al Dipartimento Architettura e Design. Le parole chiave di questo progetto sono sostanzialmente tre, patrimonio architettonico, cemento armato, valorizzazione. E aggiungiamo a questo anche la parola rischio. Rischio da cosa? Rischio dal degrado, dai mutamenti climatici, ma rischio anche dall'oblio, dalla dimenticanza. L'obiettivo di queste testimonianze, di questi video, è proprio quello di risvegliare nella collettività alcuni valori, valori storici, architettonici, sociali, economici, che opere spesso neglette hanno rappresentato nella storia di una civiltà, nella storia di una popolazione e di una popolazione locale. I video quindi si riferiscono a degli oggetti importanti nella storia costruttiva della città di Genova di cui vogliono ennucleare le vicende progettuali, storiche, costruttive, anche il loro stato di conservazione, abbandono e delineare quadri per possibili forme di riuso, anche con funzione sociale. Grazie a tutti.